Oggi presentate la Fondazione dell'Ordine degli Architetti. Sì, è uno strumento nuovo, con un atto costitutivo dell'11 maggio scorso, appunto il nostro ordine si è dotato della Fondazione. È un percorso che ci ha visti impegnati un anno intero, infatti il primo atto risale a settembre dell'anno scorso con il lavoro fatto dal Dipartimento delle Pudiche Interne del Consiglio dell'Ordine e oggi finalmente presentiamo i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione che è il primo CDA in assoluto perché la Fondazione è neocostituita. Chi sono i membri della Fondazione, del CDA? Lo Statuto prevedeva che tre membri fossero tre membri del Consiglio e nella fattispecie sono l'architetto Silvia Mauro, l'architetto Ivana Lacroce e l'architetto Alessandro Formaro. Più sei membri sono stati selezionati con apposita manifestazione di interesse fatta sempre su una base democratica che ha autorizzato il Consiglio dell'Ordine inviando a tutti i suoi iscritti un modulo di iscrizione per poterne fare parte. Hanno risposto in parecchi e il Consiglio dell'Ordine poi con apposita delibera che ha selezionato sei membri. Quali sono gli obiettivi della Fondazione? La Fondazione come primo obiettivo ha lo scopo di promulgare la cultura, l'accrescimento della formazione dei nostri iscritti attraverso promozione di eventi, promozione di iniziative che possono portare agli iscritti dell'Ordine nuove opportunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.